Il Milazzo ottiene il primo successo. Il segretario della CGL Lilloce ha un'attacca all'amministrazione, chiusa in una torre d'avorio e ignora i problemi reali della città. Buzanca Cincischia rinviando ogni soluzione, mettendo a repentaglio posti di lavoro e servizi pubblici essenziali. L'amministrazione Buzanca ha scelto di rinchiudersi nella torre d'avorio senza confrontarsi con la città, conclude Oceano, preferendo l'autoreferenzialità politica. Torniamo alla politica, la CGL spara a zero sull'amministrazione comunale e chiede anche un incontro con le parti sociali. I lifting contabili e la camuffazione delle entrate e delle uscite occultano i fatti e nascondono una realtà disastrosa. Continuare a cincischiare, prosegue la CGL, continuare a non esitare i bilanci, non cancella il debito, rinvia solo il momento della verità. La maggioranza dei consiglieri della sesta circoscrizione ha votato la richiesta di dimissioni dell'assessore alla viabilità Melino Capone. Avrebbe dimostrato di infischiarsene dei seri problemi di traffico della zona di Torre Faro. Dopo Isgro, adesso è la volta dell'assessore Capone finire nel mirino delle circoscrizioni. Ma se lui rimane sindaco, lui sei mesi prima della scadenza delle elezioni deve per ineleggibilità dimettersi da sindaco. E se poi gli elettori non valutassero bene le sue alte qualità politiche, spirituali ed etiche e morali, che cosa succede? Lui rimarrebbe come l'Aretino Pietro con una mano davanti e una di dietro? Mi pare che questo non sia un fatto che rientri nelle sue possibilità di rischio. Quindi coraggio cari cittadini messinesi, è possibile che a primi di novembre ci libereremo di un sindaco a mezzo servizio. A ben risentirci cari cittadini messinesi. La Caravaggio mania non finisce qui. È stato già programmato che nella primavera del 2012 25 tele di Caravaggio andranno in Brasile e in Argentina. Vedremo se anche Messina sarà chiamata a questo ulteriore appello. Ladri, definiti professionisti, topi d'appartamento, avevano commesso alcuni colpi, alcuni furti, soprattutto in appartamenti del centro di Messina, presi di mira appartamenti della cosiddetta Messina Bene, dell'azienda ospedale Papardo Piemonte, e chiede la nomina di un manager esterno. La Will e la Cisle invece hanno avviato questa mattina la petizione popolare per scongiurare la chiusura di questa importante struttura. All'interno della ex Sanderson di Pistunina per evidenziare soprattutto il degrado di quest'area. E poi tanto sport, ampia pagina sportiva con il calcio, ma vi aspetto, dovrà pubblicitarlo. Mettiamola così, poteva andare meglio, ma poteva pure andare molto peggio. Ed è tutto, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.